Andiamo adesso al capitolo lavoro, quel che resta dell'eredità di una lunga giornata fatta di mobilitazione, il concerto del primo maggio, tutti i temi del lavoro riassunti in quell'appello unico da Monfalcone e dalle tre sigle sindacali, il giorno precedente le misure varate dal CDM non sufficienti secondo i sindacati né la modalità né nel merito e poi c'è la piaga, quella costante e quotidiana delle morti sul lavoro. Il lavoro che non c'è ma anche il lavoro povero segnato da sfruttamento e precarietà e poi il dramma delle morti bianche che non hanno niente di angelico ma rimandano ai lenzuoli bianchi appunto stesi pietosamente a coprire i corpi senza vita di chi lavorando è precipitato in un cantiere. Come è accaduto stamattina in provincia di Napoli dove in poche ore sono morti due operai, uno di 57 anni a lettere, l'altro sessantenne a casa al nuovo. Gli ultimi incidenti mortali dopo quelli che hanno funestato la festa dei lavoratori il 30 aprile vittima Ivo Bellotto, 68 anni e l'altro la mattina del primo maggio con Rado Buttiglione che di anni ne aveva 59. Ieri a Firenze un corteo ha ricordato la strage del 16 febbraio, 5 operai morti nel cantiere S. Lunga. Fermiamo la carneficina hanno detto i leader sindacali di nuovo insieme sul palco di Monfalcone, Gorizia, per una festa dei lavoratori che inneggiava ad un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Di lavoro e sicurezza il governo deve parlare tutto l'anno, ha detto bombardieri della UIL, mentre sbarra CISL giudica importanti le misure del governo ma dice bisogna fare di più. Landini, CGL boccia il bonus Befana come uno spot, una marchetta elettorale, mentre va cancellata, dice questa legislazione folle che col prolificare dei subappalti favorisce precarietà e morti sul lavoro. I dati dell'INAIL, l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, registrano 191 vittime dall'inizio dell'anno, 5 in meno rispetto al trimestre del 2023, ma l'Osservatorio Nazionale di Bologna contesta quei numeri e parla di 11 morti solo tra il 30 aprile ed il primo maggio. Nel conteggio vengono calcolate tutte le morti anche dei lavoratori senza tutela e dunque sconosciuti per l'INAIL. Secondo l'Osservatorio nato dopo la tragedia della ThyssenKrupp di Torino dove il 6 dicembre del 2007 morirono 7 operai, le morti sul lavoro del 2024 sono 200, di cui 255 in itinere.